E caccia al conducente del camion pirata che ieri ha investito ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, mentre si allenava in bicicletta lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. Al setaccio le telecamere di sicurezza della zona, da quelle del parcheggio vicino al luogo dove si è consumata la tragedia, a quelle dislocate vicino al casello dell'autostrada. E il cerchio si stringe attorno ad una manciata di auto articolati che in quella finestra oraria avrebbero attraversato il luogo dell'incidente. Intanto la procura di Vicenza ha aperto un fascicolo contro i gnoti per omicidio stradale. Oggi l'unico piange, il suo campione, l'amministrazione proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Verosimilmente sarà la prossima settimana, molto probabilmente in Duomo. Stiamo lavorando a ricordare nel modo migliore il nostro concittadino che ha dato tanto per la nostra città. Quando c'era il Giro d'Italia, Davide Rebellini, tu sei dell'Unico perché Davide Rebellini era dell'Unico e della Madonna dell'Unico. È stata un'emozione per noi vedere passare il Giro d'Italia per la nostra città e con Davide in sella alla sua bici. E sul fatto che ha scosso l'intero paese e il mondo sportivo, è intervenuto anche il ministro dello sport Andrea Bodi, sottolineando la necessità che chi toglie una vita debba sempre assumersi la propria responsabilità e a riflettere sui numeri impressionanti. 103 ciclisti morti in strada nel nostro paese dall'inizio dell'anno e il presidente del CONI Giovanni Malagò stretto nel cordoglio ai familiari.